Non appena due giorni fa la denuncia da parte di alcuni proprietari di una quindicina di auto, in queste ore la denuncia da parte della polizia di stato. L'indiziato è un uomo accusato di aver tagliato gli pneumatici di una quindicina di veicoli posteggiati nei parcheggi vicino al centro storico di Fano. I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 di gennaio che aveva portato le forze dell'ordine sulle tracce dei possibili teppisti. Le telecamere di videosorveglianza al vaglio degli inquirenti hanno portato la polizia a seguire i movimenti di un cittadino italiano e della sua auto che usava per gli spostamenti. Una volta individuato visivamente i poliziotti hanno intercettato il veicolo con l'uomo a bordo e una volta che il soggetto ha parcheggiato il mezzo, incurante dei passanti, ha iniziato a masturbarsi. Dopodiché le forze dell'ordine hanno perquisito l'auto di proprietà del sospettato dalla quale è stato rinvenuto un paio di forbici che presentava ancora residui di gomma riconducibili ai pneumatici forati. L'individuo è poi stato sottoposto dal coltest risultando positivo al controllo. La questura di Pesero Urbino, al netto dei gravi episodi, ha vietato all'uomo la circolazione nel comune di Fano e segnalato al servizio di salute mentale per gli approfondimenti medici del caso. L'indiziato è stato denunciato per reati di danneggiamento e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere. Denuncia estesa anche per atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente. L'indagato non è ancora stato considerato colpevole in attesa della sentenza definitiva.